Una possibilità in più per Aquilani e turisti al terminal di Colle Maggio. Il comune infatti ha attivato lì un nuovo servizio di bike sharing. Il servizio è attivo in modo ufficiale dopo un breve periodo di sperimentazione. Sarà attivo per tutta la settimana, sette giorni su sette, con orari differenziati a seconda dei diversi periodi dell'anno, dalle 8 alle 20, dal 15 ottobre al 15 aprile, dalle 7 alle 22, dal 16 aprile al 14 ottobre. Il servizio per i cittadini e turisti è completamente gratuito ed è gestito da una società aquilana, l'AquilaEcospazio.it. Per il nuovo assessore alla mobilità Palo a Giuliani e per il sindaco Biondi si tratta di un servizio molto atteso. Il bike sharing infatti permetterà a cittadini e turisti di muoversi liberamente in città attraverso biciclette a pedalata assistito muscolare. Questo perché negli ultimi anni c'è stata da parte dell'ente una crescente attenzione rispetto ai temi del green e della sostenibilità. Anche gli aquilani stessi hanno dimostrato sensibilità e grazie agli incentivi comunali c'è stato un autentico boom di vendita di bici elettriche. Oltre a questo punto di bike sharing al terminal ne sarà attivato presto uno a Villa Gioia. Per l'uso delle biciclette c'è un apposito cartello nell'autostazione che indica i passaggi da fare. E sono otto le biciclette del servizio nuovo attivato dal comune al terminal di Colle Maggio del bike sharing. C'è ovviamente un regolamento per poterlo utilizzare. Lo vedete nelle immagini del nostro operatore Donatello Ricci. Bisogna collegarsi ad un link, inserire i propri dati, accettare anche il regolamento che viene proposto dalla società che gestisce. Il servizio è assolutamente gratuito. Si può ritirare la smart card negli uffici del terminal, cominciare ad utilizzare il servizio così e poi per rimettere a posto le biciclette la stessa procedura. Ci sono dei vincoli nel senso che ci si può spostare soltanto in ambito cittadino. Bisogna aver compiuto 18 anni ma è un servizio che piace. Già stamattina c'erano persone che stavano scaricando l'applicazione e facendo la procedura perché molto spesso si lamentano appunto delle difficoltà nell'accedere al centro per i parcheggi. Questo è un servizio veramente bello e innovativo e le biciclette sono sia a pedalata assistita che muscolare quindi ognuno potrà scegliere il mezzo che preferisce. Il servizio è molto interessante perché non bisogna dimenticare che il megaparcheggio ha molti posti auto e sono gratuiti per cui c'è la possibilità di parcheggiare e usufruire di questo servizio alla scoperta della città. In questi giorni turisti lo stanno usando molto ma non solo. Può essere anche una buona occasione per i cittadini stessi che spesso lamentano difficoltà di parcheggi nel centro storico dimenticando la possibilità del megaparcheggio.